Ci penso io! Vai conno! Vai conno! Del film mi ha colpito particolarmente il fatto che il protagonista, Ennio Doris, riesca a essere sempre positivo in ogni situazione e riesce a incentivare anche le persone che gli stanno attorno. Gli studenti dell'istituto Riccati Luzzati di Treviso in Aula Magna come al cinema per vedere il film Ennio Doris c'è anche domani. La fondazione, che porta il nome del fondatore di Banca Mediolanum, ha infatti lanciato un progetto educativo rivolto alle scuole secondarie di tutta Italia, con l'obiettivo di ispirare i giovani attraverso la storia e i valori dell'imprenditore di Tombolo. L'evento, patrocinato dalla Regione Veneto, ha visto la partecipazione della figlia Sara Doris, presidente della fondazione Ennio Doris e vicepresidente di Banca Mediolanum, e della moglie di Ennio, Lina Tombolato. L'esempio concreto della vita di Ennio Doris è stato l'esempio di un uomo, di un ragazzo che è provenuto da una famiglia molto umile, anzi povera, oserei dire, e che nella vita ha realizzato una grande impresa, una grande avventura, cambiando quindi con i tempi che cambiavano, ma rimanendo sempre fedeli a quei valori della propria terra, della propria famiglia, ciò che aveva imparato in casa. Il progetto è stato presentato proprio a Riccati Luzzati di Treviso, la scuola frequentata dallo stesso fondatore di Banca Mediolanum. Vedere i registi di classe con il suo nome, poterli proprio toccare, mi ha dato una fortissima emozione, perché rappresentano quel legno che io non avevo conosciuto, legno ragazzo, io ho conosciuto l'uomo adulto, per cui bellissimo. E aveva dei voti eccellenti? Aveva dei voci eccellenti, soprattutto in matematica, perché era un talento naturale in matematica, e di fatti guardando i registri erano 9, 10, 9, 10, poi sempre 10. La moglie dell'imprenditore si augura che il film possa trasmettere ai ragazzi i valori e i messaggi che il marito ha portato avanti per tutta la vita. Io spero che i giovani ricevano proprio quel forte entusiasmo, quel credere nei propri sogni, perché è quello che io desidero che passino, perché si può sognare, si può realizzare il sogno. La parte secondo me più bella e la parte che si sente molto di più nel film, che secondo me ha colpito tutti, è stata la famiglia. Ennio si vede che è molto legato alla sua famiglia e che probabilmente è ciò che lo spinge a fare il suo lavoro nel modo in cui lo fa. Ciao!